Questa è la storia della macchia che viveva. Sul mio dito, triste e sola se ne stava perché un amico non trovava, ma un giorno disse, ho capito, per trovare un amico devo andarmene dal dito, magari su un bel vestito. Anche lei un vestito voleva. E perché? Ma per sporcarlo. Il primo che passò fu il signor Maglioni. Dun du 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 suo nome ora le chiedo sono macchia piacere ma che guai ho combinato la nonna mi aveva appena lavato un nuovo amico buongiorno signor pantalone di chi è questa vocina si presenti signorina sono io macchia piacere è una bella disgraziata mi ha sporcato di marmellata e così fu per la sciarpa la camicia il cappotto e il calzino la scarpa da trekking il giubbotto e il golfino macchia un amico non trovava perché appena conosciuto lo sporcava perché macchia come tutti noi perché macchia sola non sa stare e quando trova un vestito pulito subito vuole andarlo a salutare ma alla fine macchia lo trovò un amico ma si trovò una bella tovaglia già tutta macchiata macchia poteva toccarla finché voleva perché su di lei la macchia non si vedeva tue a pulitata etc Ciao.